Passa l'esame della Commissione Affari Sociali della Camera il Decreto Calabria che contiene misure straordinarie in materia sanitaria. La Commissione ha approvato, tra le altre cose, un emendamento a testo originario che prevede lo sblocco del turnover nelle regioni e non solo per la Calabria, come ipotizzava in un primo momento il Movimento 5 Stelle, sottoposte a piano di rientro del disavanzo sanitario. In questo modo, spiega Nesci, tutte le regioni già penalizzate da limiti di spesa rilevanti possono comunque garantire i livelli essenziali di assistenza. Eliminiamo una sanzione ingiusta andando incontro al personale sanitario e a tutti i cittadini. La misura approvata fa insultare anche le altre forze politiche, ok anche alla proposta voluta dal Movimento 5 Stelle che mira a espropriare le regioni dalle potere di nomina dei manager per la selezione dei direttori generali. Bisognerà attingere a una graudatoria di doni su base nazionale. L'ex commissario della Sanità regionale calabrese, Massimo Scura, ha pubblicato un libro che è un'analisi impietosa del bubone sanitario calabrese.